La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Yancor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E andiamo avanti con il premio di professionista dell'anno neurochirurgia mini-invasiva, spero di pronunciarlo correttamente questo nome, altrimenti mi smentirà il protagonista sul palco, va al dottor François Leshanouane. Un bel applauso, abbiamo l'esame, sarà l'occasione per ripeterlo due volte. Esatto, abbiamo anche l'esame di francese. Esatto, allora, intanto leggiamo la motivazione per essere un eccellente professionista in patologie del cranio e del cervello, della colonna vertebrale in pediatria, per il continuo aggiornamento e l'arricchimento delle competenze grazie al confronto con diverse tecniche operatorie praticate in Europa e in America, per aver eseguito a oggi, sentite un po', più di 2.300 procedure chirurgiche, di cui 1.400 come primo operatore. Complimenti. È corretto il nome? L'ho pronunciato? Oh, allora ho superato l'esame di francese. Siamo in compagnia del dottor François Leshanouane, neurochirurgo, benvenuto. Grazie, grazie mille. Questa sera sarà premiato come professionista dell'anno nel settore della neurochirurgia mini-invasiva. Ecco, le chiedo un commento a questa vittoria. È un grande onore per me personalmente, ma come qualsiasi premazione non è tanto solo a livello personale, ma a livello di tutte le persone che mi hanno aiutato e per questo già anche grazie alle fonti Awards e al comitato che mi ha selezionato e premiato e grazie a quelli che mi hanno aiutato, sopportato nel progetto di quello che faccio, quindi per prima famiglia, Valentina, Leonardo, i genitori eccetera, e quelli che hanno creduto nel progetto, inizialmente quindi la clinica dove operò, il Maria Cecilia Hospital, che mi ha permesso di iniziare questa tecnica nuova in Italia, gli amici e colleghi con chi abbiamo iniziato che sono all'estero o in Italia, Giuseppe Cristini, il dottor Ambrogio Lombardini, Filippo Kamm eccetera, Medinex che mi ha permesso di avere il materiale tecnico per poter iniziare a trattare i pazienti in Italia e poi tutti i miei collaboratori, colleghi, medici, infermieri che mi aiutano quotidianamente e particolarmente i fisioterapisti che entrano proprio nel trattamento comune dei pazienti che ho, il dottor Lettini, il dottor Francesco Mazzitelli, Valerio Esposito eccetera e poi il più grande ringraziamento è ai miei pazienti perché si affidano a me e per loro che faccio e facciamo a livello globale anche queste tecniche chirurgiche Lei infatti è considerato fra i massimi esperti del settore proprio nell'utilizzo della tecnica endoscopica per trattare le patologie della colonna grazie all'utilizzo di questo metodo bi-portale. Ecco, ci puoi illustrare di cosa si tratta e soprattutto quali sono i suoi vantaggi? Allora, per rimettere nel contesto, la maggioranza delle specialità chirurgiche sono già completamente nel mondo della mini-invasività, dei trattamenti meno invasivi possibili quindi con delle telecamere, prendo qualche esempio, la chirurgia addominale, la chirurgia generale ormai non si fa più a paziente aperto, tra virgoletta, si fa in laparoscopia le chirurgie dell'ortopedico, del ginocchio si fanno in artroscopia quindi tutte le specialità tendono già da tantissimi anni a avere un gold standard del trattamento il meno invasivo possibile e la chirurgia della colonna vertebrale come la chirurgia cranica anche nell'ambito neurochirurgico rimane una molto indietro sulla mini-invasività e siamo su dei trattamenti che sono già più vecchi quindi questa tecnica che si chiama UBE, Unilateral Beportal Endoscopy è una tecnica di endoscopia della colonna vertebrale endoscopia significa usare una telecamera per andare in profondità e trattare il più vicino possibile il problema esistono altre tecniche endoscopiche sulla colonna vertebrale le tecniche dette monoportale e questa tecnica di cui non sono per niente inventor o pionier è usata da 15 anni in Asia, l'hanno inventato e sviluppato i sudcoreani i turchi eccetera e particolarmente quelli che mi hanno formato a questa tecnica il dottor Son in Sud Corea, il dottor Hayati Haigun in Turchia e uno dei precursori in Europa, il dottor Maxim Shalali che è uno dei primi a aver portato la tecnica in Europa e quindi il vantaggio di questa tecnica UBE sulla colonna vertebrale diciamo prima per il chirurgo è di avere un confort chirurgico maggiore che si avvicina molto alla chirurgia classica detta aperta, open e con indipendenza delle mani e si creano solo due fori sulla cute molto piccoli, meno di un centimetro ciascuno e con la telecamera ed strumenti si va in profondità per trattare le ernie del disco, cervicale, dorsale o lombare i restringimenti del canale vertebrale, la stenosi oppure di fare delle chirurgie dette di stabilizzazione di artrodesi vertebrale e questo ci dà a noi chirurghi la stessa agevolezza della chirurgia aperta però in un modo molto mini-invasivo e quindi infine il beneficio per il paziente come anche altre tecniche endoscopiche è che c'è una cicatrice, delle cicatrici molto piccole quindi un dolore post-operatorio molto ridotto un danno chirurgico ai muscoli, ai tessuti intorno alla colonna vertebrale che è minimo e questo offre tutti i vantaggi di avere meno dolore dopo l'intervento di poter riprendere le attività del quotidiano le attività fisiche, le attività sociale, professionale, sportive e anche ad alto livello molto prima delle chirurgie standard dette aperte anche microchirurgiche e offre anche al paziente una diminuzione dei rischi delle complicanze e offre anche un ultimo vantaggio è che si riduce la necessità di fare delle chirurgie di stabilizzazione quindi di bloccare le vertebre praticamente e quindi questo è tutto il panel dei benefici per il paziente e per il chirurgo Ecco, questa nuova tecnica risale a due anni a soli due anni fa e la Francia ha capito per prima quali erano le potenzialità reali ecco, qual è la situazione in Italia da questo punto di vista? Ora, la tecnica comunque è più vecchia perché ha 15 anni fuori all'Europa nei paesi asiatici, particolarmente la Corea, India e ormai è diventato lì il gold standard dei trattamenti come in Occidente, anzi in tutto il mondo è diventato lo standard dell'artroscopia sul ginocchio, sulla spalla, eccetera e quindi l'esperienza è enorme nei paesi asiatici e la parte orientale dell'Europa, diciamo è arrivata sporadicamente in Europa due anni fa, in effetti cominciando Francia, ma anche Ucraina prima della guerra, Spagna, eccetera e per interessi proprio così di alcuni chirurghi e l'ho conosciuta a questo momento, questa tecnica e dopo essermi formato in Francia, in Sud Corea e Turchia ho iniziato a trattare i primi pazienti circa otto mesi fa in Italia e quindi poi piano piano ho cominciato a diffondere perché come dicevo non sono un inventatore della tecnica sono un missionario, diciamo, per dire così e ho riscontrato tantissimi interessi dai chirurghi dai miei colleghi in Italia per cui sto cominciando a diffondere e a condividere la tecnica il Maria Cecilia Hospital dove operò è diventato centro di formazione e riceviamo dei chirurghi di tutta l'Italia per formarli quindi sta proprio andando si diffonde tantissimo non è ancora praticata tanto da altri però do un aiuto agli altri chirurghi che la stanno diffondendo perché sicuramente in Italia come in tutto l'Occidente sarà tra 10-15 anni il gold standard del trattamento sicuramente come guardando tutte le altre specialità e guardando questa specialità altrove cioè fuori all'Europa anche gli Stati Uniti sono stati molto in ritardo su questa tecnica che stanno ormai sviluppando tantissimo quindi in Italia sicuramente sarà sarà il trattamento base tra qualche anno ecco il 2023 è iniziato da poco ma le chiedo quali sono i suoi obiettivi professionali per quest'anno a livello formativo di condividere sempre di più questa tecnica per il bene dei pazienti non ho nessun bisogno e neanche voglia di trattenerla per me perché so che questa sarà per tutti per il beneficio comune dei pazienti e a livello dei trattamenti che effetto di effettuare sempre delle tecniche più complesse sempre usando questa tecnica UBE trattare delle patologie sempre più complesse grazie a questa tecnica e di creare anche un nucleo di trattamento intorno a questa tecnica per ottimizzare ancora di più il recupero dei pazienti visto che si può dall'indomani dell'intervento riprendere tutte le attività di aiutare e creare un ricupero con la fisioterapia con i trattamenti non alternativi ma paralleli alla chirurgia e quindi così di poter trattare anche i sportivi e di rimetterli molto presto nel loro lavoro sportivo grazie a tutti